La risposta è questa qua, io sto bene con te, ho trascosto, cioè sto bene, là dove l'esclusiva mi sembra da parte mia, non è che non te la voglio dare, ma nel momento non te la do, voglio andare avanti così con me. Fai proprio schifo, dire così, per non dire di peggio, ti spiego, ma voi pensate, un uomo che ha trascorso tutta la notte con una donna, ma tu sei proprio, ma cosa c'hai nell'anima? Cioè hai trascorso una nottata con la signora Bernarda, ok, e adesso davanti a lei, cioè dopo tutta una nottata, hai descritto questa notte di liaca, vieni qua, no io l'esclusiva è andata, ma che vi confondete ancora con questo squallore di uomo? Tina hai perso le piume. E niente. Io ancora vengavo. Un attimo. Siamo bene. Piaggio? Cioè da parte mia voglio continuare con Bernarda, assolutamente sto bene, ho solo detto, non ho detto adesso, per adesso no, voglio ancora conoscerti, voglio capire delle piccole cose, no? Non ti ho detto di no. Beh io ci penso, io ci penso.